Una volta che il terroir di Bordeaux, compresa la sua storia e quello che poi la componente commerciale è chiara, lo dobbiamo tradurre in modo tale che sia accessibile a tutti. Questo è il ruolo fondamentale svolto dalla classificazione del 1855. Ora, questa classificazione va detto che corre parallela a quello che è il sistema di classificazione classico francesi che poi riguarda tutta la comunità europea. In questo caso facciamo riferimento al sistema delle AOC. Anche Bordeaux ha il ruolo semplice e immediato di andare a catalogare quella che è una menzione regionale, quindi stiamo parlando di Bordeaux, Bordeaux blanc per esempio sulla versione bianca, Bordeaux superiore, quando parliamo del rosso, Bordeaux clairè, quando parliamo appunto di quello che è il vino classico e tradizionale, poi andiamo ad individuare quello che sono le menzioni distrettuali, quindi con la parte legata per esempio al Medoc, l'Otmedoc e via dicendo, andiamo poi nella direzione comunale. Quindi andiamo ad individuare proprio quelli che sono i comuni, come esempio possiamo dire Margot, Pouillac, Saint-Esteuf, Saint-Julien, Pessac-Leonien, quindi andiamo poi a individuare quelli che sono dei territori più micro. Non andiamo ad individuare come in Borgogna i vigneti, perché? Perché quando parliamo di classificazione e di cru, quindi in realtà è un sistema che corre parallelo al sistema delle AOC, quello del 1855, il cru, ed è qui che nasce la parola cru, non in Borgogna, non fa riferimento a un vigneto, fa riferimento a uno chateau. Come dire che io sono uno chateau riconosciuto come un cru e posso avere vigna in posti differenti e quel vigneto ricadrà all'interno del cru. Cerco di spiegarmi meglio. Il sistema del 1855 viene creato per quello che poi era l'Expo di Parigi. Si voleva mostrare al mondo quello che era la capacità di fare grandissimi vini in Francia. Quindi Napoleone III indica alle Camere di commercio che devono trovare dei sistemi per raccontare e spiegare in modo immediato e facilmente intuibile quella che è la grande qualità espressa dal territorio. Manca soltanto un mese a quella che poi sarà l'Expo. La Camera di commercio incarica i courtier, quindi i broker, non gli chateau, non i mercanti, ma i broker, i courtier, di andare a individuare in modo chiaro quella che è la qualità massima espressa dalla chateau. E che cosa fanno i courtier? Prendono i registri alla mano e vanno a vedere quelli che erano stati i prezzi attribuiti ai vini dei singoli chateau, dividendo quindi la parte commerciale in cinque fasce. Tanto queste cinque fasce fanno anche riferimento al momento di nascita dei chateau, perché si dice sempre a Bordeaux la first growth, riprendendo gli inglesi, ovvero la prima crescita che fa riferimento agli chateau più vecchi, più antichi, che sono appunto quelli che già nel 1600 iniziano la loro produzione. La quinta crescita invece fa riferimento alla seconda metà del 1800 per farvi capire come i cinque cicli effettivamente siano stati distanziati nel tempo. Quindi una variabile diventa questa, l'altra diventa il discorso legato al prezzo di compravendita. Il prezzo di compravendita però dipende non soltanto dalla qualità ma anche dalla fama, ed è ovvio che gli chateau che sono presenti da più tempo abbiano più fama rispetto agli chateau nuovi. Ed è per questo che vengono selezionati in questo sistema che è il sistema dei Grand Cru Classé, quattro chateau come Premier Cru Classé, quindi rappresentano la massima espressione di Bordeaux e questi sono Oprion, appunto siamo a Pessac-Léonien ed è l'unico che è al di fuori del Medoc, poi troviamo Margot a Margot, andiamo poi a trovare la Fitte e la Tour invece nel territorio di Pouillac, che forse Pouillac rappresenta proprio Bordeaux fino in fondo. Non troviamo Mouton Rothschild, che è oggi uno dei cinque, perché oggi i premi a cru sono cinque, che verrà inserito soltanto nel 1973. Quando facciamo riferimento a questo inserimento si dice che è strano il fatto che ci sia voluto così tanto tempo a Mouton Rothschild a entrare quindi nell'Olimpo della classificazione, ma il motivo è semplicissimo ed è la classificazione del 1855, Mouton nasce nel 1853 e con soli due anni di attività non era stato in grado assolutamente di andare ad affermare il suo grandissimo lavoro e i suoi grandissimi vini, nonostante sia stato riconosciuto un secondo livello. Questa però non è l'unica modifica nella storia, anche se tendenzialmente facciamo sempre riferimento a questo come unico momento in cui è stata rivista classificazione, perché anche negli anni 50 viene fatto entrare un nuovo Chateau al quinto livello, quindi al livello più basso della classificazione. I Chateau in tutto sono 62, quindi abbiamo proprio quello che è l'élite. Questi cinque livelli determinano il prezzo, determinano la fama e quindi all'interno del sistema della Plus de Bordeaux, quando si va a fare proprio la contrattazione economica, ovviamente in funzione della fascia abbiamo quelli che sono dei range di prezzo e i mercanti sanno esattamente che dovranno andare a spendere più o meno quella cifra per portarsi a casa il vino e il prodotto. In Premier ovviamente si risparmia qualcosa rispetto ad andare a comprare il vino una volta che è stato già maturato in legno e che è già stato affinato all'interno delle bottiglie in cantina. Questo è un po' il gioco di Bordeaux. Quindi questa classificazione fa riferimento soltanto alla zona del Medoc, ad eccezione appunto di quello che è Oprion, che è al di fuori del Medoc, siamo a sud appunto di Bordeaux. Abbiamo poi anche delle altre classificazioni parallele, per esempio i Cru Bourgeois, sono i Cru che fanno riferimento a dei vini che sono anche più immediati, più usufruibili, sono dei Cru comunque che sono stati istituiti in era più moderna e più contemporanea, ma che di fatto rappresentano quello che è un consumo antico e storico. Stiamo parlando finora di riva sinistra, se ci spostiamo nella riva destra anche Sante Milioni in epoca più recente poi ha deciso di avere il suo sistema di classificazione che è basato soltanto su tre livelli. Quindi abbiamo i due livelli superiori che sono classificati in A e B e poi abbiamo questo che è un secondo livello, ovvero un terzo livello e andiamo a determinare con gli stessi principi, quelle che sono le qualità e i prezzi. Se ritorniamo sulla riva sinistra però, qua abbiamo anche la zona di Sauternes-Barzac, qui abbiamo un sistema di classificazione che era nato già nel 1855 che fa riferimento a tre livelli di qualità. In realtà ne erano stati previsti due, però Chateau Dicam ha una qualità così superiore che è stato aggiunto quindi sopra un terzo livello che vede soltanto Chateau Dicam come protagonista. Questo ci fa anche capire come sia articolato e complesso da un certo punto di vista il sistema. Però i francesi dicono che se uno Chateau è all'interno della classificazione non è perché fa la qualità migliore, perché dà vita ai migliori vini, ma perché merita di essere lì per la storia, per il prestigio, per la fama, poco importa se magari negli ultimi anni non ci sono prodotti grandissimi vini. Questo sistema di classificazione è molto particolare sotto molti punti di vista, perché intanto se io ho uno Chateau e ripetiamo il Cru fa riferimento allo Chateau, non al singolo vigneto, io ho la possibilità, per esempio, di andare a comprare altri vigneti che saranno classificati in automatico con il mio livello di classificazione. Se io sono un Brion di turno, quindi un Premier Cru classe, vado a comprare altra vigna, in automatico quella vigna diventerà Premier Cru classe. Stessa cosa, se io sono uno Chateau, ho uno Chateau di proprietà e lo divido in più proprietà, come è successo per esempio con Leonville, ogni singola proprietà avrà la possibilità di usufruire della classificazione originaria e quindi aumenteranno anche il numero di Chateau all'interno della classificazione stessa. Questo è un sistema un po' articolato che permette a volte, ed è quello che è successo su Saint-Julien per esempio, di avere delle proprietà che sono al di fuori del territorio della classificazione originaria che vengono classificati con il nome di quella OSI e con ovviamente quel livello di Cru. Questo è un sistema che va spiegato attraverso la storia, la storia commerciale, ma anche lo stile, perché quello che ha reso poi Bordeaux estremamente importante nel mondo non è soltanto il livello di classificazione facile da leggere, quanto uno stile riconoscibilissimo. Abbiamo già detto quelli che sono i vitigni principali, il fatto che vengono lavorati in blend. Ogni annata Bordeaux è molto diversa dall'annata precedente e quindi anche il blend cambia. Un po' come succede in Champagne, la figura dell'enologo diventa fondamentale. In Champagne abbiamo lo chef de cave, qui abbiamo l'enologo puro che va a determinare quello che poi è il blend finale. A seconda dello Chateau potremmo semplificare tantissimo e lavorare soltanto su quelli che sono le varietà, c'è chi lavora sui appezzamenti, chi lavora sulle parcelle, anche se questo è un lavoro un po' più recente, un po' più moderno, chi va a lavorare sull'età dei vigneti. Va anche detto che a Bordeaux i vigneti tendono ad avere un'età media che va dai 30 ai 40 anni, quindi si cerca di reimpiantare in continuazione per mantenere proprio questo livello costante, anche se c'è qualche azienda che riesce a lavorare su vigna decisamente vecchia, ma il reimpianto è un qualche cosa che caratterizza Bordeaux insieme all'altissima densità appunto di impianto. Abbiamo una media di 8.000 piante per ettaro, ma Mouton per esempio sfora le 10.000 piante per ettaro, quindi una densità veramente veramente elevata, con le piante che entrano in competizione e sviluppano radici molto profonde. Pensate che i suoli soprattutto alla destra, sulla riva destra, che sono caratterizzati da argilla e da calcare, nel momento in cui sono umidi ma cambia la temperatura e si compattano tendono a tranciare proprio le radici delle viti più giovani, quindi il fatto di avere radici in profondità è fondamentale e di avere anche radici ovviamente più robuste. Dicevamo degli enologi, gli enologi sono stati quelli che hanno determinato il successo di Bordeaux. Intanto per quanto riguarda proprio uno stile chiaro, un'identità, per quello che è stato il potere assecondare il territorio, la tecnica qua svolge un ruolo preponderante. Basti pensare a tutte le innovazioni che sono state portate da Bordeaux. Se parliamo di enologi ne abbiamo due che rappresentano un po' il passato, comunque il successo moderno e il successo contemporaneo di Bordeaux, ovvero Emile Penot, il professore universitario dell'Università di Bordeaux, che ha influenzato anche il modo di far vino in Italia, andando a collaborare con Takis per creare quello che poi è il trend dei Super Tascan, andando a lavorare a consulenza anche su Tignanello, per dire, quindi una persona che ha introdotto la tecnica della manolattica, della fermentazione manolattica, come a una parte fondamentale del sistema. Fino a quel momento la manolattica poteva accadere come no. La manolattica è quella fermentazione che permette al vino di trasformare l'acido malico, quindi un acido estremamente transciano al palato, estremamente acido appunto, che ricorda quasi la mela verde, ricorda quasi il limone in un acido lattico, che quindi ovviamente è più morbido, più suadente, è meno aggressivo, e Emile Penot è colui che ha imparato e ha trovato il modo proprio di andare a controllare questo tipo di fermentazione per fare dei grandissimi vini. Ha poi introdotto ovviamente il controllo della temperatura in cantina all'interno dei tini, proprio per andare a controllare questo tipo di fenomeno. Invece nell'epoca più contemporanea troviamo Michel Roland, chiamato anche il The Flying Winemaker, perché è andato a fare vino un po' in tutti gli angoli del mondo. Seine Emile Penot è diventato famoso per aver lavorato, tra gli altri, con Margaux, Ponte Canet, che tra l'altro è la prima azienda 100% biodinamica a Bordeaux. Considerate che lavorare in modo biologico biodinamico, considerando l'umidità che c'è in questo territorio, è veramente veramente difficile. Michel Roland invece ha lavorato ed è diventato famosissimo per Chateau Angelus Euson, quindi siamo a Saint-Emilion, siamo nella riva destra, quindi in qualche modo si guardano i due, anche se appartengono a due generazioni differenti, e Michel Roland è stato a tutti gli effetti studente di Emile Penot. Però le zone differenti, perché poi la riva destra è quella con un successo più recente, più moderno, più contemporaneo, e Michel Roland è stato tra quelli che l'ha determinato. Michel Roland poi ha lavorato anche per Clinet, ha lavorato per Kirwan, ha lavorato per tantissimi Chateau e ha determinato sempre un grandissimo successo. Il suo ruolo invece è stato fondamentale nel andare a giocare con l'ossigeno, quindi a Bordeaux tradizionalmente si tende a riempire le botti per cercare di non avere mai ossidazione, perché questo è proprio uno dei rischi andando a fare dei vini che sono così carichi, così opulenti, così pieni di frutto, l'ossidazione, quindi l'ossigeno che va poi a dare queste note di frutta anche troppo matura, diventa un rischio altissimo per la qualità. Lui invece ha introdotto quello che è l'ossigenazione dei mosti proprio per andare a non impattare in seconda fase con quello che può essere un fenomeno di ossidazione, quindi un fenomeno ossidativo e questa è stata una delle sue grandissime innovazioni. Quindi lo stile di Bordeaux passa per un blend che cambia negli anni, per quelli che sono gli affinamenti fatti in barrique di rovere francese, una densità per ettaro altissima. Andiamo poi a fare degli affinamenti generalmente in barrique di rovere nuova per i Grand Vingt, mentre sui secondi vini e terzi vini cambiano le percentuali di botti nuove, di botti invece utilizzate, di solito comunque di secondo passaggio. Andiamo poi a individuare, e questa è una tecnica che gli olandesi già nel 1600 utilizzavano, che è legata al bruciare lo zolfo all'interno delle barrique, quindi era un modo per poter conservare il vino durante il viaggio. Abbiamo poi altre tecniche specifiche molto tradizionali, come appunto il riempire le botti di legno per non avere questo fenomeno ossidativo, ma anche l'utilizzo dell'albume montato che viene messo proprio all'interno delle barrique e viene fatta questa pratica, viene utilizzata per cercare intanto di andare a fare la chiarifica, quindi di pulire il vino, perché il vino deve essere pulito, deve essere puro, deve rappresentare l'eccellenza al massimo livello, ma anche per cercare di ammorbidire un po' i tannini. Generalmente appunto il vino passa un anno, difficilmente si va oltre 18 mesi in barrique proprio per non andare ad imprimere questi tannini in modo troppo irruento all'interno del vino stesso. Ma abbiamo poi la capacità di leggere questo stile in modo chiarissimo e immediato. Sulla parte sinistra, quindi dove il Cabernet Sauvignon gioca il ruolo più importante, ci aspettiamo vini un po' più austeri, ci aspettiamo struttura, tannino più tranchant, più forte, più duro, più ruvido, soprattutto in gioventù, con un naso un po' più avaro che ha bisogno di tempo proprio per concedersi. Se invece andiamo nella parte della riva destra, troviamo l'opposto, ovvero troviamo dei vini a base di Merlot, dove il Merlot arriva quasi in purezza. Abbiamo più alcol, abbiamo più corpo, abbiamo più abbondanza, più suadenza. I frutti iniziano a giocare un ruolo importantissimo all'interno proprio dell'aspetto gustativo. I tannini sono fitti, presenti, ma tendono a essere già più morbidi anche in gioventù. Abbiamo quindi dei vini che sono tendenzialmente un po' più immediati, più pronti, con la capacità sì di sfidare il tempo, ma forse che non raggiunge i livelli della riva sinistra. Abbiamo poi nella riva destra questa componente di eleganza che è rappresentata appunto dal Cabernet Franc. Capite come lo stile di Bordeaux è diventato facile e chiaro da leggere. Giusto per ricapitolare rapidamente. Abbiamo un terroir immediato in cui identifichiamo appunto le due rive con caratteristiche differenti. Abbiamo il ruolo svolto dal commercio che è un ruolo fondamentale anche grazie alla Place de Bordeaux e poi abbiamo quello che è uno stile chiaro, unico, riconosciuto in tutto il mondo e che è forse lo stile più imitato in assoluto dai super Tascan nati appunto sullo finire degli anni 60 che hanno ripreso in pieno questo stile per andare verso la California, la Napa Valley che ha ripreso lo stile di Bordeaux, ma poi se guardiamo anche all'Australia, l'Asia, la Cina stessa ha improntato il modo di lavorare proprio sul sistema dei Chateau e su quello che è Bordeaux. Grazie.